Mancano poche ore ormai all'esito dell'udienza del Tribunale di Milano sul recesso di Arcelor Mittal, per la quale non esclusa l'ipotesi di rinvio. Nello specifico, il Tribunale si esprimerà sulla richiesta di recesso dal contratto presentata dalla multinazionale, che per oggi manifesta una certa dose di ottimismo rispetto ad una possibile soluzione sostenibile. Parola di Editha Mittal, presidente e direttore finanziario del Colosso Franco-Indiano, che aggiunge, auspichiamo ulteriori passi in avanti nella delicata ed incandescente fase di trattativa sul destino del futuro interaionica. Ed il tutto nonostante una perdita netta di 2 miliardi e mezzo di dollari dati alla mano, considerata fisiologica, secondo l'azienda, che parla di segnali che indicano il rallentamento della domanda, che comunque inizia a stabilizzarsi nel mercato di competenza. Intanto, come è noto a distanza di giorni dall'incontro londinese del Premier Conte con numero uno di Arcelor, lo spauracchio del depotenziamento dello stabilimento siderurgico di Taranto non si affievolisce. Il tema centrale, manco a dirlo, è fortemente legato alla questione esuberi, che potrebbero ridursi a 2 mila ma solo a seguito di un accordo sindacale e poi il processo di decarbonizzazione. L'ex Silva non potrà vivere se non a ciclo integrato, ribadisce il ministro Francesco Boccia, cioè dalla materia prima a prodotto finito. In buona sostanza, la posizione del Governo non muta e non arretra rispetto all'ipotesi di riconversione industriale, che garantirebbe la già auspicata produzione iniziale di 8 milioni di tonnellate l'anno, sufficiente a garantire i giusti livelli occupazionali. Questione di ore, tante basterebbero, salvo rinvio, per chiudere almeno il capitolo recesso. Al Tribunale Lombardo è il caso di dire l'ardua sentenza.